Bene amici, davvero bene, sapevo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato. Infatti finalmente l'Inps, l'Istituto Carrazione di Previdenza Sociale, si scusa, o meglio direttamente il vertice fa ammenda con un comunicato appena uscito col favore delle tenebre, dove la super commissaria dal pugno durissimo ammette l'errore e annuncia la novità molto attesa. Io sono Mr. Lull, adesso vi spiego tutto, prima però sapete cosa fare, no? Un bel like, condividete il video e sì, partiamo, eccolo qui, comunicato del 3 agosto a Reti Unificate, scritto di suo pugno, dal pugno d'acciaio di Micaela Gelera. Dal titolo l'Inps chiarisce e informa. Insomma, qui come vedete la commissaria si scusa per l'SMS e per le mail del terrore, della sospensione, inviati giusto la scorsa settimana a oltre 170.000 nuclei per settori di RDC. E sentite cosa scrive. Inps ha inviato un SMS e email che avrebbe dovuto essere più accurato nei contenuti e nella forma. Traduco, abbiamo fatto schifo. Ma dopo questa ammissione di colpa arrivano due annunci importanti. Dal 1 settembre sarà ufficialmente operativa e varata la piattaforma SISL che permetterà nei fatti di fare domanda per il bonus supporto, formazione e lavoro da 350 euro mensili, quell'indennità di frequenza di cui abbiamo parlato diverse volte. E arrivano anche nel dettaglio tutti i passaggi tortuosi che si dovranno seguire per arrivare a beneficiare del sussidio. Cito, dal 1 settembre il cittadino occupabile dovrà compilare domanda nel sito web Inps o tramite patronati. Poi sulla piattaforma SISL, attraverso un percorso guidato, si potranno sottoscrivere il patto di attivazione digitale, il contatto poi con l'agenzia per il lavoro e successivamente il patto di servizio personalizzato presso i centri per l'impiego. Inoltre questa nuova fiammante piattaforma favorirà anche l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Infatti lo sapete benissimo, lo sappiamo tutti, come ci ha ricordato anche la ministra Calderone giusto ieri che è pieno di lavoro in Italia, soprattutto al sud, quindi dal 1 settembre no problem. Ragazzi, questi vivono proprio in un'altra dimensione. Alla prossima, un saluto, un abbraccio da Mr. Lull.